L'Ambrosetti Economic Indicator evidenzia per l'Italia un clima di grande fiducia e ottimismo. E' in accordo con questa analisi? Sì, sono d'accordo che ci sia molta fiducia. I numeri del Paese non sono ancora positivi, ma la fiducia è tornata e penso che con la fiducia poi torniranno in futuro anche i numeri.